Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa. Cominciamo subito dal santo del giorno, poi le previsioni del tempo. Oggi è San Tommaso d'Aquino. Chi è San Tommaso d'Aquino? San Tommaso d'Aquino intanto è dottore della Chiesa, San Tommaso è stato dichiarato dottore della Chiesa ed è stato per secoli il punto di riferimento per l'insegnamento della teologia. È nato vicino Napoli nel 1226, il sole è sorto alle 7.29, tramonterà alle 17.13 minuti e vediamo subito il tempo. Allora per oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, con temperature lieve aumento. Sono 12 gradi alle 7.30 di questa mattina, è una temperatura gradevolissima, non è freddo ma soprattutto non è umido, quindi un clima molto asciutto, si sta davvero bene questa mattina, già di prima mattina o presto. Allora i venti sono di Brezzatese, il mare poco mosso. Vediamo domani, domani avremo un cielo sereno poco nuvoloso. Poi temperature stazionari, lieve diminuzione, i venti sono da prima sud-occidentali, poi diventeranno moderati i venti nelle zone interne. Il mare sarà poco mosso. Per la giornata di sabato, 30 gennaio, ancora cielo parzialmente nuvoloso, con temperature in lieve diminuzione le massime, i venti di Brezzatese. Attenzione eventualmente alle foschie o ai locali banchi di nebbia. Indicazioni di tempo stabile per la giornata di domenica e la prima parte della prossima settimana. Ieri c'è stato il funerale di uno dei due ragazzi deceduti nell'incidente di sabato mattina all'alba alla curvone di Pesaro. Naturalmente tanta gente, tanti amici, tante persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a questo giovane di Pesaro. Allora cominciamo dal Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, eccola qua. Guardaci con i tuoi occhi grandi e buoni, questo è il titolo. Una folla in lacrime per l'ultimo saluto a Claudio. Il parroco, durante l'omelia, ha detto imparate da questo immenso dolore. I volti straziati e attoniti dei genitori e dei fratelli, lo sgomento dei compagni e tanti palloncini rossi e gialli all'uscita del feretro. Il papà di Federico dice siete stati amici, ora siete due angeli. E l'autopsia che è stata invece chiesta per il corpo di Federico Corsini, colui che guidava la macchina che poi è andata fuori strada al curvone di Pesaro. L'autopsia che è stata effettuata sul corpo di Federico Corsini dice che Federico è morto per una emorragia cerebrale. L'autopsia è effettuata in tarda mattinata all'obitorio di Muraglia. L'ha richiesto il magistrato Valeria Cigliola che dunque ha dato poi nulla osta per la sepoltura della Salma. E il funerale di Federico sarà oggi pomeriggio nella chiesa di Cattabrighe. Sempre su questo funerale c'è anche la pagina del messaggero, la vediamo subito, eccola qua. Lanterne, palloncini ai colori di Tre Ponti. Tre Ponti è il quartiere, sapete che a Pesaro c'è anche il paglio dei Braceri, quindi hanno diviso la città in quartieri e c'è anche la bandiera sopra la barra del suo quartiere. Tre Ponti appunto. Intanto ieri pomeriggio hanno voluto essere presenti al funerale del giovane nella chiesa di Montecchio. Il sacerdote, sentite cosa dice, si rivolge ai ragazzi e dice ma è necessario fare una vita così notturna? Già, è necessario? No, non è necessario. Diciamo noi genitori, diciamo noi adulti, diciamo noi che siamo di un'altra epoca per questi figli che vogliono sempre aver ragione, vogliono e si sentono supereroi e quindi fanno quello che vogliono, escono a qualsiasi ora del giorno della notte e quasi quasi gli diamo fastidio. Non è, ha ragione il sacerdote, non è necessario fare una vita così notturna e soprattutto alle 4.45 a costo di essere impopolare, dico con forza che alle 4.45 bisogna essere a letto e non in giro a quell'ora per locali. È il mio pensiero e lo dico. A Fano invece, la pagina di Fano, troppi anziani ricoverati per mancanza di servizi, la CGL dice la terza città delle Marche, continua a non avere una RSA, la nuova struttura sarà dell'intera provincia, non solo di Fano e Pesaro. Il dibattito sull'ospedale unico solleva altri temi che per il sindacato meritano una certa attenzione. Poi, sempre nella pagina di Fano del messaggero, l'irruzione dei ladri allo stabilimento Alda, quella che si trova a Torrette di Fano, ma ci sono stati anche altri due stabilimenti, sempre sul lungomare fa di Bruno a Marotta, altri due stabilimenti dove i ladri sono entrati ma hanno fatto più danni che altro, perché poi non c'è niente dentro questi capanni, ci sono gli ombrelloni, c'è poca roba, qualche pallone, qualche binocolo, qualche cosetta rimasta lì dall'estate. Paolini, convinceremo la società Madonna Ponte del piano. Parliamo dell'ex zuccherificio. L'amministrazione comunale confida nella validità del progetto. Andiamo sull'altra pagina, quella di Pesaro Urbino, per vedere cosa scrive sempre il messaggero. Sul quadro conteso attribuito a Leonardo, vogliono fare la fine dell'isippo. Il Leonardo conteso, lo sfogo di Emilia Bibbi, Cecchini, che si presenta in procura ma rimanda l'interrogatorio. Il quadro di Isabella d'Este resta in Svizzera, nel cavo. Non hanno prove, dice Bibbi Cecchini, non hanno prove che io lo abbia portato via illecitamente. Con i soldi della vendita avrei aiutato le donne sole, invece non dormo più da un anno. E poi ancora furti, colpa Ronco Sambaccio, preso il terzo ladro e ancora sempre dal messaggero, sulla pagina di Pesaro, Ricci, il sindaco, in tour scende nell'arena della Baia. Il sindaco comincia domani il viaggio nelle circoscrizioni, si parte iniziando da Porto Soria, il quartiere cosiddetto più caldo, i malumori legati al piano spiaggia bis non si sono placati, la conferenza centri dice no alle licenze di ristorazione ai bagnini. Andiamo sulla pagina invece delle Marche. Vecchia banca delle Marche, chiesto il processo per Bianconi, Palazzo dei Parioli, per l'ex DG l'accusa è corruzione, gli indagati aumentano, al vaglio anche la truffa e la bancarotta. Andiamo invece adesso sulla pagina di Faro del Corriere Adriatico, eccola qui, e si torna a parlare oggi del Carnevale. I carristi, i carristi che sono protagonisti importanti del Carnevale di Faro, non dimentichiamolo, i carristi chiedono l'ingresso al Carnevale che sia a pagamento. La categoria ammette la scarsa qualità dell'evento 2016, Mariotti, atto di solidarietà, sorcinelli, scelte sbagliate. Chiaramente non c'è una visione comune su quando si parla di Carnevale, se parli con i carristi la vedono in un modo, se parli con la carnevalistica la vedono in un altro, però il bello è anche che si discute, l'importante è che si vada alla fine a trovare una sintesi, un punto di incontro. C'è Santorelli che è un consigliere ex assessore, ma consigliere comunque adesso in Consiglio Comunale, Santorelli eventi e arte si è tornati indietro. Poi è chiaro che su questa vicenda, lo vedremo anche tra un attimo, si parla di questo obolo perché un euro non si può considerare un biglietto di ingresso, un euro è un obolo, così come ha chiesto la lista civica noi città, noi giovani, che appoggia il sindaco di Fano chiaramente, ma insomma si può ragionare su dei biglietti che oscillano tra i 5 e i 10 euro, come ha chiesto anche Santorelli. Viareggio, pensate che Viareggio costa, se non sono riportate male le cifre, 15 euro credo in prevendita, 18 euro l'ingresso al Carnevale. È vero che sono carri allegorici molto più grandi, il viale è 10 volte tanto, c'è uno spettacolo scenico diverso, ma a Fano magari c'è uno spettacolo meno scenico, ma ti porti via a minimo un sacco così di caramelle che ne valgono 20 di euro se le vai a comprare da qualche parte. Quindi insomma c'è gente che vuole in primi sicarristi e altri invece no, come Alberto Berardi invece già presidente del Carnevale d'Italia che non c'è verso di fargli cambiare idea. Berardi è convinto che è una festa popolare, tale deve rimanere e quindi non bisogna far pagare il biglietto. Andiamo avanti con il giornale, con la rassegna, andiamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Il Getti restituisce Barba Blu, Barba Blu è un'opera che farà rientro in Italia il 29 di gennaio e verrà restituita alla Sicilia, era stata trafugata attorno al santuario extraurbano di San Francesco Visconti a Morgantina in provincia di Enna alla fine degli anni 70. ebbene il Paul Getti Museum di Malibu, siamo in America, lo restituirà appunto all'Italia. Si tratta di un'opera che si chiama Testa di Ade, però Testa di Ade è detta anche Barba Blu e verrà restituita. Però sull'isippo per l'atleta manca ancora la prova regina che sia stato trafugato e quindi resta là, resta nel museo di Malibu. Allora, Carnevale, anche il resto del Carlino che stamattina interviene sul dibattito, pagamento sì, pagamento no. Carnevale, se incassi un euro ne perdi sette. Cecchini boccia noi giovani, boccia soprattutto Lobolo, su questo siamo d'accordo, un euro non serve niente a nessuno. Santorelli però rilancia, il biglietto può costare anche 10 euro. Adesso 10 euro magari subito così di bottecchioppo come direbbe qualcuno è troppo, però insomma si può cominciare con una via di mezzo e che potrebbe essere 5-6 euro. Poi dopo qualcuno dice che magari ne sa più di me o ne sa più di chi fa semplicemente chiacchiere, dice il rischio è di spendere 7 perché impersonale, sicurezza, CIA eccetera eccetera. Ok, però verrebbe da dire ma il personale perché adesso non c'è e cosa fa? Adesso fa volontariato, la sicurezza adesso non c'è? Sì, e allora perché? Eppure è gratis, come si fa a pagare? La CIA, ecco l'unica voce che andrebbe inserita nel momento in cui si mette in piedi un biglietto potrebbe essere la CIA, ma di questo insomma poi si troverebbe penso una soluzione. Vabbè, chiusa la parentesi del biglietto, andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino perché Mattioli, Davide Mattioli, lo salutiamo perché sicuramente ci segue dall'estero, non so se è a Fano ma probabilmente ci segue anche su internet dalla Repubblica Ceca, Mattioli, Davide Mattioli è un grande cantante, un cantante fanese che ha fatto fortuna all'estero, la mia voce dall'est Europa all'Egitto, il cantante celebre nella Repubblica Ceca duetterà con un noto rapper africano, mentre qui lo vedete nella fotografia con Eros Ramazzotti. L'altra pagina del resto del Carlino, la vediamo subito, da Fano e Vella del Cesano, eccola qua, paralisi dopo la caduta, tre persone a processo, vittima un 37enne, era salito su una piattaforma per potare un albero. A giudizio c'è finita la proprietaria del terreno, i titolari della ditta. Tra gli imputati figura anche Barbara Granadiglia, moglie del consigliere regionale di Federico Talè. Sotto ladri con l'X Factor da Bagnalda rubano l'impianto audio, il danno ammonta 2000 euro, giorni fa c'è stato un altro blitz al centro Barracuda. Siamo in chiusura, l'ultima pagina del resto del Carlino, eccola qua, Leonardo, stiamo parlando del quadro, Isabella d'Este, Cecchini, ieri si è presentata in procura senza rispondere alle domande, la signora che vedete in questa fotografia, Cecchini in procura, vai sulla formalità, non risponde e annuncia, mi cerca anche una tv giapponese, siamo alle battute finali, il lavoro investigativo sull'esportazione del dipinto è ormai concluso. Poi, nonno sfratta un ex, nonno sfratta ex nuora e due nipoti, per il giudice ha ragione ed è stato assolto, avendo cambiato serratura rispondeva di violenza privata. La rassegna stampa finisce qui, io vi ringrazio naturalmente per averci seguito, per averla seguita come tutte le mattine, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo come sempre che c'è il nostro sito internet occhiolanotizia.it per gli aggiornamenti e la nostra applicazione gratuita che potete scaricare su Google Play oppure sull'Apple Store. Grazie e buona giornata a tutti.